Facendo già festa, ultimi secondi, Maresca ha già guardato il suo orologio, il tocco di Pasquato per Ticone che lotta, ancora Citro, si aspetta soltanto il fischio finale, il Pescara ormai ad un passo dalla sua sesta promozione in Serie A, il colpo di testa di Petkovic e qui finisce, finisce la partita, il Pescara torna in Serie A, il Pescara torna in Serie A. E questa è la sua festa, scateniamo subito Manuele Paiocchini a portocampo per raccogliere le sensazioni a caldo, è festa grande, è festa grande per il Pescara. Manuele, si, si c'è Oddo che sta andando a consolare Cersei Cosmi, ha detto prima di ogni intervista, prima di qualsiasi cosa, è un'immagine straordinaria questa qui. Bellissima, veramente bella. Veramente un'immagine. Cosa vuol dire per te tutto questo? Giriamoci, giriamoci verso il tergammere Massimo. Non lo so, fatemi ragionare un attimo. Non dirci qualcosa, è bellissimo.